buongiorno buongiorno a tutti bentornati a questo nuovo webinar organizzato da audio sales sempre su camsis il tema di oggi tracking o non tracking questo è il problema una citazione ma per presentare un vero e proprio problema che ci si pone ogni volta che andiamo a cominciare una programmazione ogni volta che dobbiamo approcciare e più che cominciare una programmazione già a ragionare sulla programmazione stessa proprio perché la scelta del tracking arriva prima di tutto quanto ma prima di cominciare io come sempre vi ricordo se ancora non lo fate di seguire tutti i canali social di audio sales che trovate nel pannello chat quindi il profilo instagram il profilo facebook ricordate il sito per qualsiasi richiesta riguardante l'assistenza e la riparazione di prodotti audio sales trovate il link al gruppo operatori camsis italia trovate il link a la pagina camsis italia dove trovate tutte le novità di camsis e nel caso in cui non ce l'abbiate ma dubito soprattutto se siete qua vi lascio anche il link al volo per scaricare l'ultima versione di magic you l'ultima stabile ad ora la 1 8 8 8 che vi consiglio caldamente di andare a a scaricare ad aggiornare nel caso in cui non l'aveste già fatto facciamo una premessa sul webinar di oggi non parleremo approfonditamente di come di che cos'è il tracking non parleremo di come si utilizza il tracking specificatamente su magic you questo perché lo abbiamo già affrontato all'interno di un webinar che trovate sempre sul nel canale youtube di audio sales quindi di nuovo se non l'avete fatto iscrivetevi attivate la campanella per non perdervi neanche un video trovate anche di questo il link all'interno del pannello chat in modo che nel caso possiate andarvelo poi a recuperare parleremo più nello specifico del del tracking come concetto parleremo del perché scegliere il tracking o il non tracking quando cominciamo a parlare e quando ragioniamo appunto su una programmazione io vi chiedo soprattutto per questo webinar che rispetto agli altri è magari un po più discorsivo vi farò vedere qualche esempio ma è prevalentemente discorsivo se avete domande non abbiate paura a farle fatele anzi e magari creiamo proprio una discussione su su questo potrebbe essere interessante anche perché siamo una ventina e quindi potrebbe essere insomma sicuramente è semplice e riuscire a parlare insieme e creare appunto un confronto va bene cominciamo a parlare di tracking che cos'è questo benedetto tracking che spesso ci viene agli occhi e alla mente allora il tracking non è altro che una metodologia di programmazione nella quale ovviamente la console ci aiuta la differenza sostanziale tra il tracking e il non tracking è la stessa differenza che potremmo che troviamo tra assoluto e relativo mi spiego se lavoro in non tracking io devo andare a specificare ogni volta tutto ciò che è acceso all'interno di un palco se lavoro in tracking invece vado a specificare le modifiche già questo ci fa capire quanto il tracking sia fondamentale utilizzabile solo all'interno di Qstack quindi mai in più singole dove non avrebbe senso e non funzionerebbe di fatto perché appunto non ho niente da tracciare dico tracciare proprio perché ragionare sulla traduzione in italiano spesso può aiutare tracciare che cosa tracciare l'andamento nella storia diciamo nel tempo di un parametro quindi prima di cominciare diciamo prima prima di vedere degli esempi io vi porto vi porterei a fare un ragionamento tendenzialmente noi siamo abituati di fatto a ragionare in tracking tendenzialmente se io operatore luci la designer mi trovo di fianco al regista la regista di turno parlando ad esempio in uno show teatrale oppure io operatore mi trovo di fianco all'i designer che mi dà istruzioni su quello che devo programmare tendenzialmente lui mi parlerà in tracking e per me sarà normale ascoltarlo così in che senso mi parlerà in tracking beh allora ad esempio dice allora cominciamo e facciamo piazzato ok nella prossima scena cala il contro luce ok cala contro luce perfetto cala salvo perfetto adesso a guarda adesso si spegne tutto si accendono i tagli ok salvo ok poi a questi tagli aggiungiamo un po di contro luce quindi scena successiva aggiungo contro luce ecco vedete come lui mi sta parlando in tracking se mi stesse parlando in non tracking ogni volta mi specificerebbe solo quello che è acceso quindi il grande mostro diciamo che è il tracking a livello di a livello mentale se uno non lo conosce di fatto non è niente che niente diverso da una semplificazione ora purtroppo le cose non finiscono qui e come sempre c'è anche un lato negativo e nel senso che devo ricordarmi sempre quando parlo in tracking quando quando programmo in tracking che ogni cosa che faccio viene portata avanti nel tempo però noi operatori camsis da questo punto di vista siamo avvantaggiati perché camsis ci ha abituato da sempre a ragionare un pochino in tracking in che senso nel senso che il programmatore di camsis lavora utilizzando i parametri ltp come ltp puri cioè nel vero senso del termine ltp che per chi non lo conosce lo ricordo ltp vuol dire latest takes precedence quindi l'ultimo valore in senso temporale ha la precedenza se andiamo a fare un confronto con altri marchi altri banchi come può essere la classica ma ma abitua i loro operatori ogni volta che fanno clear tutti i parametri tornano un valore di home quindi ha un valore predefinito che è il valore diciamo di riposo per camsis invece tutti i parametri ltp rimangono nell'ultimo valore in cui si trovavano al momento al momento dell'ultima modifica di fatto quindi non ho mai un valore di home ma ho sempre il valore in cui mi trovo in questo momento l'unica differenza la fanno i http i dimmer quindi proprio perché è loro natura il fatto che vinca sempre il valore più alto e quindi se non specificato sarà zero ma in che modo questo ci può aiutare ci aiuta andando a aiutare di fatto scusatemi la ripetizione il nostro modo di ragionare perché noi siamo già abituati appunto a ragionare in questo modo quindi ve lo chiedo prima di andare avanti è chiaro il concetto teorico di tracking c'è qualcuno per cui non è chiaro bene qua mi arrivano dei chiarissimo quindi direi che vado avanti se siete fantastici ragazzi ottimo allora tracking in pratica quindi in pratica che cosa come utilizziamo noi tra chiama maurice infatti praticamente faccio locate clear sono i valori di home sì esatto locate clear porta i valori quello che ma fa tenendo premuto il tasto clear facendo triplo clear esatto maurizio mi chiedeva questa cosa allora andiamo a vedere al volo un esempio di tracking sono su magic you ho sempre il mio amato show vedemo andiamo a prendere ad esempio facciamo una queue list semplice proprio solo di dimmer per cominciare a capire quindi mi prendo per esempio tutti questi dimmer li metto qui dentro ok e facciamo queue timing yes ok mi sono andato a creare una queue list dove ho prima tutti i rossi poi tutti i verdi poi tutti gli ambra poi tutti i blu sono tutti dei par gelatinati e quindi non sono teste che cambiano colore ma sono proprio dei fari gelatinati bene ovviamente in questo caso io non ho tracking abilitato andiamo a vedere nello specifico cosa c'è dentro queste queue se io faccio view queue adesso provo a mettere provo a fare una modifica provo a mettere window large big text mode magari vi aiuta e vedete meglio anche voi mi sembra un pochino di sì ok cosa ho dentro queste queue allora allora faccio uno shift close chiuso tutto così mi metto il queue stack di qua e la queue me la metto di qua questo layout ci tornerà sicuramente comodo quindi lo salvo come layout 3 ok ok quindi cosa ho qui dentro tutti i rossi a 100 cosa ho nella 2 tutti i verdi a 100 tutti gli orange a 100 e tutti i blu a 100 quindi se vado ad attivare la mia queue list vedo che di fatto mi si accendono prima i rossi poi i verdi poi gli ambra poi i blu ho però la possibilità di andare a variare al volo il tracking anche queue by queue ma questo lo andiamo a vedere dopo vi ricordo che qui dentro dentro la colonna track io posso andare a inserire la maschera di tracking che più mi interessa quindi giusto per ricordarvelo io posso andare a inserire h l e f dove h sta per htp l sta per ltp e f sta per effetti quindi cosa vuol dire questo vuol dire che se io vado a scrivere la h avrò il tracking sugli http quindi sui dimmer se vado a scrivere la f avrò il tracking sugli http quindi tutti gli altri valori che non sono dimmer se vado a scrivere la f avrò il tracking sugli effetti questo dopo lo andremo a approfondire però importante capire che f sta per effetti quindi motore effetti non ad esempio il gobo shake o il gobo rotate bene quindi tornando a magic queue io cosa devo fare in questo caso nella colonna di track ho già la l di default vado a inserire anche la h quindi h l vediamo quindi ora cosa succede rosso premo play aggiungo il verde premo amber aggiungo l'ambra premo blu ma perché quindi vado sempre ad aggiungere non si spegne mai niente perché non ho mai specificato lo spegnimento di un faro per farvi capire ora mi vado al volo giusto per comodità a mettere record merge nelle quick macro posso per esempio dire ok voglio che nella quarta queue però i verdi siano spenti quindi selezioni verdi gli do intensity at zero quindi in programmatore o proprio dimmer a zero e vado a fare un record merge sulla queue numero 4 sulla queue numero 4 di questa queue list perfetto merge quindi se ora vado a vedere cosa ho nella queue numero 4 oltre ai blu a 100 ho anche i green a zero quindi rivedendo la mia queue stack rosso verde blu ed ecco che quando mi entra il blu mi si spegne il verde questo è fondamentale lavorando in tracking è fondamentale ricordarsi che tutto quello che ho acceso lo devo anche spegnere non si spegnerà mai in automatico questo quindi è rapidamente una rapida occhiata al tracking su magic queue ora però vi faccio vedere un'altra cosa che può rappresentare un altro problema ho fatto un undo giusto per andare a eliminare lo spegnimento dei blu quindi se ora vado a vedere all blue view queue guarda c'era dell'altra roba sotto all blue facciamo una cosa lo rifaccio intanto facciamo prima copy qui perfetto queue timing yes mettiamo lo schermo intero ora attivo il mio tracking quindi di nuovo sono nella situazione di rosso verde giallo blu cosa succede però se vado a saltare o a invertire l'ordine di esecuzione delle mie queue beh allora partiamo per esempio a mettere all green quindi la numero 2 in fondo quindi il docchio è di 5 ho spostato la mia queue vediamo cosa succede rosso ambra blu verde sono proprio andato a cambiare la sequenza in cui questi si accendono ma cosa succede se io per esempio attivo la queue rossa e faccio un go to queue alla blu alla 4 quindi amber non si è accesa quando però se io l'avessi seguito in modo sequenziale amber sarebbe stata accesa ora questo mi può andare bene come no dipende ovviamente dalle situazioni ma tendenzialmente nella maggior parte dei casi no questa cosa non mi va bene posso risolverla però rapidamente con premendo tre volte tasto scena quindi vado su view option advanced e recalculate state on jump su yes vi dico anche che se quando create un nuovo show utilizzate la modalità di programmazione su questa per intenderci su theater tracking recalculate state on jump su yes di default però cosa succede in questo in questo caso sono in queue numero 1 salto alla queue numero 4 è come se avessi eseguito anche la 3 tant'è che se poi faccio un go back quindi salto alla queue numero 3 va di fatto a spegnermi in blu cosa che senza recalculate state on jump non avrebbe fatto quindi questo fondamentale da ricordarsi quando vado a programmare in tracking di nuovo vi chiedo dubbi domande fino a qua ci siamo cancello le domande di prima giusto perché così ok ho la schermata vuota vedo che i feedback tardano ad arrivare quindi potrebbe essere una parte un pochino più ostica vediamo va bene mi sembra comunque di capire che sia chiaro quello che abbiamo visto finora rimane comunque la possibilità alla fine di fare le vostre domande nel caso bene facciamo cominciamo però invece a fare un ragionamento di tipo diverso sia chiaro ora io vi parlerò vi farò ovviamente degli esempi vi chiedo come sempre chiedo nei miei corsi non prendete tutto quello che vi dico esattamente alla lettera o come è giusto per forza vi do degli spunti di riflessione l'importante poi è che ognuno vada ad adattarli al suo modo di pensare e al tipo di show che deve fare o intanto Giorgio mi fa una domanda mi dice ciao Nicola ma se il light designer di turno mi dice di aggiungere o togliere non è più facile in non track più o meno sì dopo lo vediamo domanda molto interessante Giorgio anzi vediamolo vediamolo subito dai allora torniamo in questa sono sempre nella mia bellissima key list no sono nella mia key list quindi rosso ambra blu verde però light designer mi dice ma sai cosa però la key numero due mi piace di più se ci mettiamo anche gli spot che girano intorno anzi no se ci mettiamo gli spot con un rotogobo e ci va bene mettiamo gli spot con il rotogobo quindi vado guardo la mia key numero due questa è una classica modifica quindi li accendo li metto nella posizione che dovranno avere beam gobo proviamo a dargli un gobo diamogli un gobo rotate dai questo è il gobo uno gli diamo una rotazione eccola qua perfetto mi piace lo vado a mergiare in q2 di questa key list alla q2 adesso non esiste c'è ragione diciamo record merge in q3 qui q2 non esiste perché l'avendo le riordinate la 2 non c'è ma adesso al volo le vado a riordinare correttamente perfetto ora è chiaro che se vado ora ad eseguire questa a lanciare questa key list cosa succederà che in q2 parte tutto come deve partire poi però i miei fari rimangono accesi quindi sarò è chiaro che dopo sarò io operatore che devo dire ok passo accesi solo in q2 o anche in q4 è sicuramente più comodo se mi dice no no quelli stanno accesi sia in q2 che in q3 è sicuramente più comodo lavorare in tracking perché perché mi basta andare in q4 e dirgli ok spot amici miei dimmere a zero mergi sull'a4 ok quindi ho il volo gli ho detto ok da qui a qui siete accesi 1 2 3 e 4 è chiaro però che se decido di lavorare in tracking io posso avere tanti vantaggi è ovvio che su una q list di quattro step tracking o non tracking non cambia molto dall'altra parte però su una q list di 110 150 come può come è mediamente uno show teatrale è chiaro che mi può far comodo anche solo la possibilità di tenere leggera la mia q stack perché questo perché all'interno perché la tengo leggera ecco perché all'interno di ogni q se io vado a vedere cosa ho al punto all'interno facendo più più io ho proprio solo specificati i cambiamenti quindi capisco al volo cosa succede lì abilitando il view tracking invece vado a vedere tutti i parametri quindi in grigio che non ho scritto e che sono stati sottintesi dalla precedente che sono tanti è anche vero però che fare una modifica in non tracking è sicuramente più semplice a livello concettuale ma mi può occupare più tempo e soprattutto poi se faccio un errore può essere anche più difficile da eliminare nel senso che se per esempio io dovessi dire questo questa modifica che abbiamo fatto adesso mi dura per 35 scene ovviamente utilizzo un record merge dalla per esempio record merge dalla 15 alla 50 e su tutte vado a salvare quei parametri oppure con include update è quasi infattibile in questo modo posso farlo per esempio che con include update purtroppo non c'è giorgio una risposta univoca perché sia tracking che non tracking porta con sé pro e contro spero di averti risposto una cosa che aggiungo già che siamo su questo argomento lavorare in tracking in qualche modo mi va a eliminare la possibilità di fare copy questo perché se vado a fare ad esempio ve lo faccio vedere copio la q numero 3 faccio copy q numero 3 su playback di fianco cosa avrò qui dentro è avrò solo i blu al cento per cento quindi questa è la copia della mia q numero 3 ora qua controllo di aver attivato il ricalcolate l'ho attivato ok questa è la q numero 3 della mia q list quindi siamo passati da qui a qui in realtà ci sono dei walk around se per esempio ad esempio posso fare shift copy e abilitare entire state sempre della mia q numero 3 la metto qui in questo modo cosa ho sbagliato io devo dargli anche l'unlinked per chi numero 3 qui dicevamo shift più copy unlinked entire state della q numero 3 qui no però come se mi va mi va comunque prendere solo quella q ecco esatto cosa diversa è con l'include perché se come avete visto faccio shift più include gli dico includi entire state della q numero 3 di questo playback mi va proprio prendere il tracking di tutto quanto in questo modo posso registrarmi una nuova più che di fatto è una copia questo è un rapido walk around ma ma appunto ecco simone sonda mi ha appunto appena chiesto e a proposito di questo posso fare una snapshot e anche giorgio mi dice ma se fai se butti fuori e fai la snapshot allora la snapshot io sono sempre molto riluttante nel fare le snapshot per un motivo che la snapshot vi va a prendere non solo quella q cioè non solo per esempio la q numero 3 ma anche quello che eventualmente avete fuori da preset dal programmatore da altri playback da executor da qualsiasi cosa c'è fuori cioè per esempio in questo caso abbiamo tutto tranne le verdi ipotizziamo che io abbia anche le verdi qui che sono alzate così giusto perché sono non so in preriscaldamento se io vado a farmi una snapshot non solo avrò dentro anche le verdi a un livello più basso eccole qua ma ad esempio qui vedete io non mi ero accorto non avevo alzato proprio fino al cento per cento mancava un ciccinino e mi sono fatto la snapshot del 95 per cento quindi è tutto molto influenzabile da valori che magari non mi accorgo neanche di avere su il classico esempio è devo fare la modifica al volo però ho sulla sala perché intanto il regista ha bisogno di fare le sue robe e quindi ho sulla sala per esempio da un executor che mi sono dimenticato faccio le mie robe mi sembra che funzioni tutto nel momento in cui vado a fare lo show faccio lo show e a metà si accendono le luci di sala un pochino rischioso però insomma nel caso si può fare ok quindi andiamo a fare questa ragionata su tracking o non tracking per le diciamo le varie situazioni io ho individuato per questo per questo esempio quattro situazioni da esempio che sono live teatro basking e installazione un po come i corsi di tecniche che abbiamo fatto no perché perché sono di fatto i quattro casi che vanno individuare su alcune che danno vanno a dare delle direttive alcune abbastanza precise se o meno ha senso usare il tracking partiamo dal basking ora uno show programmato in basking tendenzialmente ha delle queue list corte quattro cinque queue per queue list perché ho bisogno di essere rapido sui fader e tendenzialmente ogni fader mi controlla solo alcuni parametri l'esempio classico è quello che ho fatto credo a tutti i miei corsi in uno show in basking quello che io ad esempio vado a mettere su un fader i beam con la strobo open poi con una strobata lenta adesso il visualizer non è molto chiaro sulle strobate una random e facciamo un'altra random giusto per ovviamente le passo in queue timing quindi se io sto lavorando in basking questo è il numero massimo di queue che ho all'interno di una queue list cinque sei in questo caso mi serve il tracking tendenzialmente no anzi può rischiare di farmi fare confusione il punto qual è questa la confusione che mi può far fare perché me la fa fare sempre confusione giustifica il fatto che io lo utilizzi per me in questo caso no perché di fatto sono quattro queue se devo andare a modificarle o lavorarci ci metto un attimo a farlo in questo modo oppure un'altra queue list può essere una queue list di effetti dove ho i miei spot per esempio dove ho i miei spot con un pan beh che adesso manco si vede ah ho fatto un pandim guarda dove ho i miei spot con facciamo un tilt e con un circle e anche questa la mettiamo in queue timing ora ha senso qui usare il tracking assolutamente no perché vado a fare comunque sempre cose diverse avete ragione avete ragione non sono sullo schermo colpa mia dicevo questa è la queue list in cui ho la mia strobata quindi qui dentro non ho altro che dimmerestrovo nelle sue varie nei suoi vari utilizzi quindi più lenta più veloce random non random faccio go paraparapà ok questa qui dentro invece ho i miei shape quindi per esempio un tilt e un circle ha senso lavorare in tracking assolutamente no per me volendolo potrei lavorare in tracking qua perché potrei dire tanto tutti hanno il dimmer alto poi però insomma non so non ci trovo troppo senso perché di fatto va a complicare le cose quindi dal mio punto di vista basking tendenzialmente no sul teatro è chiaro che invece ha senso cominciare a ragionare teatro per me è quell'occasione in cui è tendenzialmente sempre sì ora attenzione perché per tendenzialmente sempre sì è chiaro che si intende uno show che abbia un numero pseudo consistente di queue cioè dobbiamo parlare di so 40 60 80 queue almeno una roba che appunto mi vada a giustificare il passatemi il termine il pensare in più che devo applicare alla programmazione in tracking perché comunque lavorando in tracking io devo sempre stare attento a cosa ho acceso e cosa ho spento quindi teatro tendenzialmente è un sì così come il live in realtà io in live lavoro di solito sto dicendo troppe volte tendenzialmente ma io lavoro di solito con sulla prima queue list sulla prima sul primo playback la queue list il mio show su tutti gli altri gli altri playback roba che mi può servire a mano ecco nel playback uno che è quello dove ho tutta la mia queue list magari in time code ecco allora può avere senso lavorare in tracking perché comunque nell'andare avanti a programmare è comodo sulle altre di solito no non è detto discorso se fa invece l'installazione perché in un contesto di installazione io devo capire che cosa potrebbe succedere vi faccio un rapido rapido esempio sort by date quindi mi vado a prendere questo ok sono in installazione ho le mie queue list programmate in time code in questo caso in time code interno qui è senso lavorare in tracking dipende da voi di fatto è una queue list quindi per me dico tendenzialmente sì ma se ad esempio come come potete vedere qui queste sono delle queue list che di fatto vanno a lanciare le queue precedenti a me qui ha fatto comodo il tracking quindi l'ho attivato ma non sempre quindi in questa queue list per esempio l'ho attivato solo nell'ultima è chiaro che per l'installazione non è senso lavorare in tracking se siete certi che le queue vengano eseguite sempre nello stesso ordine in un ordine definito da voi se deve mettere mano un altro operatore magari potrebbe essere meglio di no è chiaro però che è giusto e fondamentale fare una valutazione volta per volta quindi facciamo al volo un giro di eventuali domande ci sono domande ragazzi è tutto chiaro vabbè Dario mi dice che ha una domanda extra tracking ma per ora fammela nell'attesa che ne arrivino altre poi nel caso ti rispondo con con questa cosa chiede se la funzione search è stata fatta quale funzione search va bene intanto arrivano ah ok Dario no ci stanno lavorando ci stanno ancora lavorando allora va bene qua sembra tutto chiaro quindi andiamo a vedere più nello specifico come funziona il tracking per gli effetti sono un paio di cosine interessanti soprattutto che arrivano non dall'ultima ma dalle ultime release e papapascio vedemo quindi carico il mio show amato intanto Maurizio ecco Maurizio mi ha fatto una domanda perfetta perché Maurizio mi chiede se devo lanciare su un effetto con un circle dice voglio lanciare un effetto con un circle subito dopo un dimmer fade mi conviene il tracking o il non tracking è quello che andiamo a vedere proprio adesso Simone perdonami mi dice in non tracking ho sempre in programmatore quello che è acceso in tracking in tracking hai quello che cambia in tracking in programmatore hai quello che cambia quindi quello che si accende o si spegne Gianni intanto mi fa un'altra domanda che dove mi chiede utilizzi di strobo all'interno dei playback Gianni io intanto ti invito a guardare i webinar sulla pagina sul canale youtube di audio sales e ti invito al webinar question and answer che sarà la settimana prossima dove possiamo parlare diciamo di qualsiasi argomento vediamo la questa riflessione di Saverio che dice vedo il track se devo fare qualcosa di personalizzato cioè se ho il regista che mi dice di volta in volta se devo comunque prepararlo al volo in base alle richieste se invece mi preparo a casa un po' di giochi da usare in modo standard su più spettacoli diversi meglio in base al sentimento allora è meglio il non tracking beh è che in realtà tu hai fatto hai fatto due paragoni che sono diversi cioè tu stai paragonando il lavoro di programmazione a casa appunto di giochi da usare a sentimento quindi di fatto di basking mentre il regista che ti dice cosa programmare tu stai lavorando più con una cue list quindi il paragone giusto secondo me sarebbe dire sarebbe dire proprio per le cue list a sensual tracking per i giochi da buttare dentro al volo anche in cue list anche loro è chiaro il non tracking e su questo sicuramente ci sta allora due domande che sono abbastanza simili Simone mi chiede se mentre sto programmando ho dei dubbi se è acceso o no tipo tagli i tagli al 10% così come Paolo che invece mi chiede in tracking c'è modo di vedere tutto quello che è in output sì ci sono entrambe queste possibilità questo perché vado di nuovo a prendermi la cue list quella che ho fatto prima quindi vado ad attivargli il tracking cue timing questo perché allora se voglio vedere cosa ho in output intanto sicuramente non lo troverò nel prog ma nell'out e nell'out ho tutto quello che ho in output in questo momento se voglio vedere se nella cue 3 sono accesi i tagli rispetto anche al tracking mi basta fare view cue dove vedrò in rosso quello che c'è all'interno della cue ma se abilito il view tracking vedrò in grigio tutti i valori che mi sono portato dietro dalle cue precedenti quindi in questo modo vi faccio vedere anche l'out in questo modo riusci da vedere anche appunto sia l'out che della cue 3 per esempio eccoci qua sia l'out posso filtrarlo su active per vederli tutti che faccio view cue view tracking per vedere quello che ho all'interno della cue dipendentemente dal tracking molto bene parliamo di effetti invece adesso quindi andiamo a rispondere alla domanda o di non mi ricordo più di Maurizio allora l'esempio può essere ho una canzone che ha un crescendo quindi potrei dire che voglio intanto intensity di Merceis come sempre vado a metterlo in absolute poi giusto per gli mettiamo un 10% anzi no un 100 e un 10 di crossfit pam 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 bellissimo reorder random via così siamo anche più felici e lo salviamo qui poi nella prossima cue list io voglio che questo continui ma che si aggiunga un circle quindi cosa faccio prendo i miei spot aggiungo un effetto di posizione circle e lo vado a salvare sempre qui abilito ovviamente il tracking io lo vado a abilitare vedete se non lo abilito nella cue 2 si muovono ma si muovono spenti abilito il tracking sia sugli http lascio gli ltp e lo metto anche sugli effetti in questo modo più uno più due i due effetti si sono sommati lavorano ora insieme una domanda che potrebbe sorgere spontanea è bellissimo ma se nella prossima cue list io il circle lo voglio rimuovere ma solo il circle non il dimmer chase come faccio scusatemi come faccio c'è una possibilità che è quella di dire prendo i miei spot gli aggiungo un effetto cioè proprio lo aggiungo di posizione quale effetto voglio andare a eliminare il circle bene prendo il circle e qui in fondo l'ultima casella sulla destra è track out mi basta dirgli yes come vedete essendo track out tutto quello che c'è qui viene disattivato reso grigio e quindi posso andarla a salvare come Q3 di nuovo HLF rimane quando faccio go ecco che ho eliminato dal tracking il mio circle ma ho mantenuto l'altro effetto se vediamo cosa avrei dovuto fare se avessi voluto invece programmare fare questo tipo di cue list senza il tracking prendo i miei fari in touch full ad effects intensity dimmer chase e sempre add su normal e su absolute e crossfade su 10 ok salvo qui clear ok cue successiva beh volendo potrei includere questa e poi andare ad aggiungere position circle e la salvo qui e poi nella successiva ancora abbiamo detto che voglio tornare diciamo a questa quindi cosa faccio posso fare di nuovo includi la 1 e la salvo qui però qual è il reale vantaggio del tracking è che se io ora vado in quella in tracking view cue view effects e gli vado a dire no no guarda che non voglio più il crossfade a 100 nell'immer chase non voglio più il crossfade a 10 ma lo voglio a 0 per esempio e voglio uno spread di 200 questo è il mio risultato mi viene mantenuto anche in tutte le altre cue facciamo uno spread il 50 così è un po' più chiaro e gli diamo anche molta più velocità ok tutto questo mi viene mantenuto in tutte le mie cue perché? proprio perché sono in tracking in questo caso sono invece proprio effetti separati quindi se io qua gli vado a dare velocità molto alta comunque tutti gli altri saranno alla velocità che io gli ho impostato ero in cue list saranno a velocità che io gli ho impostato cue per cue quindi fare una modifica in questo modo in tracking mi aiuta e mi semplifica molto molto la vita una cosa a cui bisogna stare attenti che non smetterò mai di dire è avere sempre tanta consapevolezza di quello che ho in programmatore e di quello che cambia un esempio che nei miei corsi faccio con un esercizio ora ve lo faccio vedere al volo ipotizziamo una cue list in in tracking quindi metto in fan out rosso per esempio e poi dopo nella cue successiva vado in posizione x ciano clear abbiamo detto che siamo in cue timing tracking su hl ok poi nella cue successiva sono in posizione down white white clear e poi nella successiva sono in posizione out up col gobo che gira ah però gobo a due ecco è chiaro che devo sempre stare attento a cosa metto in programmatore questo perché nella cue 1 io non lo avevo previsto ma quando ho inserito il gobo in cue 4 questo rimane perché è ltp è chiaro che se io faccio un locate poi clear tutto mi torna correttamente ma non posso permettermi di avere delle variabili quindi devo ricordarmi di prendere i miei spot e dirgli guarda che il gobo è aperto all'interno quindi ah non ce l'ho più quindi shift record record merge all'interno della cue numero 1 però anche qui vedete la la semplicità io ho fatto questo aggiornamento in cue 1 gli ho detto che i gobo sono open e non devo più specificarlo saranno sempre open finché non cambieranno questo è un grande 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 aiuto che il tracking ci dà l'ultima cosa che vi dico per oggi è di ricordarvi di giocare con i flag e abbiamo questa fantastica possibilità di attivare il tracking cue by cue quindi possiamo ad ogni cue dare un tipo di tracking diverso se nella situazione se in questa situazione sono nella cue list quella degli effetti nella prossima cue io ad esempio voglio mantenere tutto uguale ma senza effetti pardon devo prendere quella in tracking se voglio mantenere tutto uguale ma senza effetti non devo fare altro che registrare una memoria vuota e togliere il flex sugli effetti quindi dire HL ed ecco che in questo modo 1 2 3 4 e soprattutto se io vado a fare una modifica sulla cue numero 1 quindi la cue numero 1 gli dico ok voi spot adesso siete ciano e dai non ce l'ho più record merge sulla 1 perfetto io ho scritto ciano dentro a tutti questa roba è molto comoda lavorare in tracking spesso vuol dire avere a che fare trovare un grande giovamento dall'utilizzo del record remove per questo vi rimando ai webinar sul canale audio sales dove si parla di record merge di record remove applicati anche all'utilizzo col tracking quindi non perdetevi quei due episodi nel caso in cui non li aveste visti su modifica delle cue e programmazione tracking o non tracking molto bello Antonio dice che bomba ragazzi quello che io vi dovevo dire ormai ve l'ho detto quindi direi che vi lascio spazio cinque minuti quello che serve per le domande per alcune domande se ce le avete su questo argomento dopodiché ci salutiamo mentre scrivete le vostre domande io vi ricordo di seguire tutti i canali social di audio sales per non perdervi neanche un video sulle tecnologie distribuite da audio sales vi ricordo che tutti questi webinar li troverete sul canale youtube quindi iscrivetevi attivate la campanella e vi ricordo che noi comunque ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo webinar sempre dalle 15 alle 16 abbiamo altre domande? ok Maurizio mi chiede se inizio a lavorare in tracking e dopo 10 scene devo cambiare colore che va per altre 5 scene la scena del cambio colore deve essere in un tracking no no la scena del cambio colore deve essere in tracking tracking vuol dire che si porta dietro le modifiche ma le modifiche le puoi fare assolutamente quando ne hai bisogno Simone mi chiede dopo 20 scene il regista mi dice pulisci tutto pulisci il programmatore partiamo con atmosfera diversa come faresti? beh io giocherei con i flag quindi atmosfera diversa senza portarmi dietro niente non c'è problema mi registro una memoria eccolo qua mi registro una memoria e me la registro vuota dove però al tracking vado a mettere niente tracking niente vuol dire dimenticati tutto ciò che c'è sopra e riparti da capo attenzione però ricordatevi che avete sempre la possibilità di utilizzare Qonly e BlockFX questo è spiegato all'interno del webinar sul tracking nella playlist su YouTube c'è Paolo che mi chiede se si può rivedere il track out beh il track out assolutamente non c'è problema comunque ti ricordo che questo video di nuovo lo troverai su YouTube quindi nel caso vogliate rivederlo lo troverete sul canale YouTube di Audio Sales comunque ho il mio effetto che gira quindi un circle ad esempio nella Q successiva mi basta dire prendo i miei fari e gli aggiungo lo stesso effetto quindi sempre un circle ma con track out in questo modo l'effetto circle su queste macchine verrà eliminato te lo faccio vedere quindi HLF lascio il tracking anche sugli effetti però in Q1 ho il circle in Q2 non ce l'ho più molto bene non ci sono altre domande quindi io vi ringrazio di essere stati con noi di avere partecipato a questo webinar di Audio Sales e vi do appuntamento quindi a mercoledì prossimo grazie a tutti per la partecipazione grazie a tutti